Si assegna a questo 10 milioni di euro in Fes-Presitoria Giovannina. Se non ci sono progetti per 10 milioni di euro, se ne sono per 5, i 5 che non li hanno utilizzati, perché non lo hanno fatto come questa. E' un po' di messa, se ne ho visto l'abilità, per questo? Tanto siamo con giù? Se lo potete messire? Sì, è un po' di messa. Sì, è un po' di messa, non è un po' di messa, non è un po' di messa. Sì, è un po' di messa. Sì, è un po' di messa.